Siamo con Sonny Colbrelli alla conclusione della seconda tappa del Toscana Terre di Ciclismo. Sonny, raccontaci gli ultimi piloti. Peccato perché è stata una fuoco controfuga, è andato in un bel gruppetto, nessuno di noi. Abbiamo provato a chiudere, poi quando abbiamo chiuso, sono stati via in contropiede, questi, penso, quattro atleti che sono arrivati all'arrivo e siamo partiti troppo tardi. Adesso per i prossimi giorni quale sarà il corona? Adesso proviamo a tirare sicuramente per Pugge, Battalink e Haru che possono uscire adatto loro e speriamo che recupero i secondi che hanno perso. Ok, grazie mille.